Le cantine torri, precisamente nella zona di Ancarano e Controguerra, nella provincia di Teramo, da un vitigno quarantennale a un'altitudine di 290 metri sul livello del mare e con una splendida esposizione a sud-sud-est, hanno dato vita al Bacan Doc Riserva. 100% uve montepulciano d'Abruzzo, quindi un vino in purezza, vendemmiate tardivamente verso la fine di ottobre, con uve selezionate manualmente in un allevamento a filare e da un'agricoltura biologica certificata. Viene vinificato in tini di acciaio termocondizionati e alla fine della fermentazione malolattica il vino riposerà in barrique usate per 12 mesi, per poi affinare in bottiglia per almeno altri 6. Assaggiamo. Una veste rosso rubino impenetrabile, vezzeggiata da una delicatissima sfumatura granata. Nel variegato intenso quadro olfattivo spiccano nitidamente i sentori di mora matura, le visciole, il gelso, con delicati richiami di sottobosco nel finale. L'assaggio è morbido ed elegante, amarena, ciliegia, frutti di bosco, contornato da tannini setosi al palato, perfettamente amalgamati a una coerente dotazione acida. Un finale ricco di sapidità e piacevolmente mandorlato. Un vino da bere sui 18-20 gradi e prima di servirlo suggerirei di attendere qualche minuto dall'apertura. Buono da bere sia da soli che in compagnia ed eventualmente accompagnandolo con piatti strutturati come salumi, pappardelle a ragù, involtini di manzo ripieni o formaggi stagionati.